Bentornati a una nuova puntata di facciamo finta che puntata piccantina, puntata pericolosetta, ragion per cui grazie di cuore a chi ha scelto di seguirci in live, nonostante shadow ban, problemi, vessazioni, minacce velate e malfunzionamenti casuali proprio in questi giorni, bentornati alla chat, fedelissimi veterani abbonati, grazie di cuore ai nuovi abbonati, grazie di cuore a chi sta contribuendo con le donazioni in chat. che vanno in qualche modo a forzare uno shadow ban per tornare quantomeno ai numeri che siamo abituati. Il buon Mesbet in regia e mi fa un sacco piacere che abbia trovato il tempo per passare insieme a noi a Michelangelo Severnini, intanto ben arrivato. Grazie Gianluca, buonasera, un saluto a tutti. Allora noi ci sentiamo da qualche settimana e intanto complimenti per il tuo coraggio e per il tuo lavoro e so che sono stati dei giorni un po' complicati perché da quando abbiamo cominciato a sentirci più o meno un paio di settimane fa è successo l'acqua lunga, ragione per cui abbiamo anche rimandato ad oggi questa puntata e ci arriveremo anche al perché, però intanto andiamo a far scoprire un po' chi sei, quello che è il tuo lavoro e le ricerche e quello che hai fatto in questi anni, così poi arriveremo ai giorni nostri che sono veramente di grande attualità, i fatti che stanno accadendo mentre noi parliamo vanno proprio, si direbbe lupus in fabula con quello di cui io e te parleremo questa sera. Arriviamo, partiamo dal principio. Sì, dunque io sono documentarista, faccio questo mestiere da vent'anni tondi tondi, ho fatto documentari anche per la Sette, per E3, ma questi erano gli anni 2004-2008. Poi nel 2008 sono nato all'estero, ho vissuto dieci anni all'estero, di cui sei a Istanbul, in Turchia, e nel 2018 sono tornato in Italia e, come dire, mi è caduta addosso questa croce della Libia in qualche modo, perché proprio nel 2018 ho trovato ad un certo punto un metodo basato sulla geolocalizzazione che mi permette di entrare in contatto con tutti coloro che usano i social dal suolo libico. significa che in quattro anni ho chattato con circa un migliaio di persone, molti migranti schiavi cosiddetti, e anche molti libici, e sono loro sostanzialmente che hanno reso possibile questo racconto, perché loro sono sul campo, quindi non solo sono, come dire, i protagonisti delle vicende che loro stessi stanno raccontando in quello stesso momento, perché non sono racconti che si riferiscono al passato, sono racconti che li riguardano in presa diretta quasi, ma soprattutto è stato interessante ascoltare il loro punto di vista, che chiaramente dalla Libia, come dire, il mondo ha tutta un'altra apparenza che non visto dall'Italia, e quindi questo è quello che ci mancava, quello che ci è mancato in questi ultimi dieci anni, cioè essere in contatto con le fonti di rete. Peraltro fammi subito aggiungere un fatto, perché appunto, come dicevo, io ho vissuto sei anni a Istanbul, parlo il turco, e mi sono accorto a un certo punto che molte delle resistenze che esistono in Italia, quando si parla di Libia, sono dovute proprio a una sorta di propaganda turca, di cui siamo vittime qui in Italia, perché le fonti, mi sono accorto, le fonti di informazioni alle quali la stampa italiana si rivolge, sono di fatto controllate dalla fratellanza musulmana e quindi dalla Turchia, quindi la Turchia ha tutti gli interessi a raccontarla in un certo modo la Libia, il problema è che gli interessi della Turchia non sono i nostri, quindi io continuo a non capire, perché noi ci ostiniamo a utilizzare la terminologia stessa che usano i turchi per parlare di Libia, che non è evidentemente quella che corrisponde ai fatti. Faccio un esempio, quando noi diciamo che a Benghazi ci sono i rinnegati e che Haftar è un signore della guerra, ecco questa è proprio la terminologia che usa la fratellanza musulmana, ma loro hanno un motivo ben preciso per usare questa terminologia, perché la Turchia sta occupando militarmente Tripoli e la Tripolitania, in barba a quello che è la volontà popolare libica e al diritto internazionale, mi permetterei di dire. Quindi loro hanno tutto l'interesse a raccontare che quegli altri sono i cattivi, perché loro stanno occupando illegalmente un paese straniero, ma noi che siamo l'Italia io non capisco perché dobbiamo ostinarci ad appoggiare un governo illegittimo, che controlla solo il 20% del territorio libico di fatto, quando invece ci sono delle istituzioni legittime votate dal popolo libico e che controllano peraltro tutti i pozzi di petrolio in Libia. Quindi questa è la situazione di partenza, poi se vuoi entriamo nel merito delle questioni. Guarda, assolutamente, perché abbiamo anche l'occasione, grazie a te, di fare una parentesi, se vuoi anche breve, in quello che è stato Gheddafi e la Libia per l'Italia e per l'Europa, con quanta foga in realtà i francesi si siano lanciati a bombardare la Libia, in quello che è accaduto poi subito dopo la morte di Gheddafi, nonostante i numerosi soldi che Gheddafi aveva investito in qualche modo in Italia, e poi se vuoi arriviamo anche un breve cenno anche con Erdogan e con il colpo di Stato, che è stato un elemento un po' strano, subito appoggiato poi dall'Italia stessa, poi fallito, poi in qualche modo Erdogan continua a fare un po' il gambler, a stare al di sopra delle regole, e non si capisce, un po' come un giocatore di poker, se sta con Putin, se sta con la Nato, ha un piede in tante scarpe, fa affari con chiunque, non si capisce un po' il suo ruolo, e se vuoi anche un paio di parole sugli ultimi attentati, fra l'altro proprio ad Istanbul, di cui veramente un grosso punto interrogativo a leggere l'aria. Chiaro, chiaro. Guarda, io quando mi sono trasferito in Turchia era il 2008, quindi era un anno molto interessante, perché ormai in Turchia era consolidato quello che è stato definito il boom economico degli anni 2000, e questo era facilitato dal fatto che la Turchia da un lato aveva avanzato la richiesta di adesione all'Unione Europea, ma dall'altro continuava chiaramente a battere la propria moneta, quindi svalutando la lira turchia in questi vent'anni hanno dato estrema forza al loro export, soprattutto verso l'Europa, dove appunto non c'erano più dazi, insomma, quindi tasse, proprio perché la Turchia di fatto era a livello commerciale ormai già un paese dell'Unione Europea. Però che cosa succedeva? In quegli anni è stato interessante perché Erdogan da un lato aveva la maggioranza in Parlamento, il suo partito, l'HP, però al tempo stesso bisogna ricordare che la Turchia era, ormai bisogna usare il tempo al passato, un paese fondato su una costituzione laica, quella appunto di Ataturk, che è quella che fece nascere la Repubblica Turca già nel 1923, e come, diciamo così, eredità di questo passato, l'esercito, così come succede in vari paesi, pensiamo ad esempio all'Egitto, era di fatto un'istituzione, un corpo dello Stato, che quindi aveva possibilità di entrare nel merito delle questioni, persino di nominare alcuni membri della Corte Costituzionale. Ecco, quindi nel 2008, 2008-2010, da un lato c'era un boom economico, dall'altro c'erano queste due superpotenze all'interno del paese, cioè l'HP e Erdogan da un lato e l'esercito dall'altro, che se le davano di santa ragione, però normalmente nelle aule dei tribunali, in Parlamento, eccetera, e quindi tutto era, come dire, lasciato così all'improvvisazione nel resto del paese. Però che succede? Che io ho visto come Erdogan è riuscito a ribaltare completamente l'ordinamento dello Stato in Turchia, e ti assicuro non è stato un giochetto semplice, proprio perché la matrice secolare della Costituzione turca risaliva al 1923, quindi ormai era qualcosa di consolidato nel DNA dei turchi, ma lui si vedeva benissimo in quegli anni come aveva al suo fianco delle persone molto capaci nello sviluppare strategie politiche, diplomatiche, a volte usando metodi un po' più rudi, un po' più forti, per riuscire a raggiungere quegli obiettivi che sembravano fuori dalla portata di chiunque in quel momento in Turchia. Mentre che è successo? Nel 2010 si tiene un referendum, peraltro truffaldino, perché è un referendum che propone di cambiare tutti insieme 26 articoli costituzionali. Tra questi c'erano alcuni articoli che tutti i turchi non aspettavano altro di cambiare, per esempio la possibilità di processare gli autori dei colpi di Stato degli anni Ottanta, però al tempo stesso c'era la riforma della Corte Costituzionale turca che quindi dava in quel momento la possibilità al partito di maggioranza in Parlamento di nominare fino alla metà dei membri della Corte Costituzionale. Significa che da lì in poi qualsiasi legge il partito di Erdogan abbia approvato in Parlamento tale quale è stato anche approvato dalla Corte Costituzionale. Da lì in poi è stato un trionfo di fatto, perché poi non dimentichiamoci che all'inizio degli anni 2000 nel mondo occidentale, qui nel Mediterraneo, il problema allora si parlava di esportare la democrazia, perché appunto si pensava che l'Islam non fosse compatibile con i valori occidentali. Ecco che in questi anni arriva Erdogan che dice no, noi siamo un partito islamista, islamico quantomeno, però al tempo stesso siamo in grado di conciliare quelli che sono i valori occidentali con l'Islam. Nel 2010 si mette in tasca la Turchia, come raccontavo, e nel 2011 qualche mese più tardi scoppiano le famose cosiddette rivoluzioni nei paesi arabi dove la fratellanza musulmana, che è questa corrente di pensiero di cui Erdogan di fatto è il leader mondiale, ha avuto un grosso ruolo, perché di fatto sono le classi dirigenti che poi sono andate al potere in Tunisia, in Libia, in Egitto in un primo momento. E quindi è chiaro che la Turchia da questo punto di vista ha giocato un enorme ruolo e continua a giocarlo. Dopodiché, sì, allo stesso modo la loro spregiudicatezza arriva anche sul piano delle politiche internazionali. Però per quanto riguarda il golpe, giusto, io ti posso riportare un po' quali che sono le voci ufficiali di corridoio in Turchia rispetto al golpe. L'ipotesi che va per la maggiore è che di fatto il golpe fosse vero, perché c'erano ormai delle parti dell'esercito che normalmente erano, come dicevo prima, legate alla Nato, quindi legate a quello che era l'esercito prima del 2010, che ormai sentivano un po' l'acqua, come dire, venire meno, non riuscivano più ad avere il potere di prima, sapevano che ormai sarebbero stati presto scalzati da Erdogan, che nel frattempo in questi anni ha avuto modo anche di riformare l'esercito, cambiare i capi dell'esercito, eccetera. Quindi quello forse era, è stato il tentativo, un colpo di coda per riprendere il potere in Turchia e sicuramente l'amministrazione Obama non era favorevole a Erdogan, però cosa è successo? Che probabilmente è intervenuto un deus ex machina a salvare Erdogan all'ultimo momento e tutto lascia pensare che sia stato niente meno che Putin, perché se fino alla settimana precedente Erdogan chiedeva, implorava la Nato di lasciargli luce verde per andare fisicamente con l'esercito fino a Damasco per deporre il presidente Assad, ecco che dal golpe in poi Erdogan non ha mai più parlato di deporre Assad a Damasco. Quindi verosimilmente l'artefice della salvezza di Erdogan è stato Putin. Questo, se è vera questa teoria, questo fatto, in qualche modo spiega e in qualche modo spiega anche gli ultimi risvolti perché in realtà Erdogan ha sempre sfruttato sia appunto la richiesta di adesione all'Unione Europea che lui ha ereditato dai governi precedenti sia la stessa appartenenza alla Nato li ha sempre utilizzati come opportunità, cioè nel momento in cui erano delle opportunità per la Turchia le ha sfruttate fino in fondo. Nel momento in cui invece come dire erano dei limiti per l'azione politica non se ne è mai guardato e ha tirato dritto e ha continuato a fare la sua politica. Ogni volta che gli è stato lasciato la redine sul collo ne ha approfittato, ne abbiamo visto ovviamente con, come dicevo appunto, con le rivoluzioni arabe e sappiamo benissimo anche che l'economia benché vacillante della Turchia in questi ultimi anni si è tenuta in piedi grazie al petrolio trafugato dalla Siria e in parte anche al petrolio trafugato dalla Libia. Quindi questo è un po' il quadro. Gli ultimi attentati è difficile saperlo però è chiaro che a marzo ci saranno le elezioni e il partito di Erdogan chiaramente non è abbastanza basso nei sondaggi. Quindi sappiamo per esempio nel 2015 come la strategia dell'attenzione ha consentito a Erdogan di guadagnare quella maggioranza che non aveva nel 2015. quindi tutto può essere che la stessa strategia possa essere impiegata anche in questo caso qualora i sondaggi non risalissero. Fra l'altro a proposito di petrolio a proposito di benzina so che hai un documento di cui si sta parlando tanto in questi giorni se ti va ce lo mostri così ognuno farà le proprie valutazioni per farvi capire. Sì allora questa è una fattura che ho preso alla pompa di benzina a Benghazi in Libia e praticamente ho comprato 5 litri di benzina e gli ho pagati 15 centesimi di euro significa che a Benghazi un litro di benzina costa 3 centesimi di euro questa meraviglia in realtà ha delle spiegazioni concrete perché come spiegavo all'inizio ormai i posti di petrolio sono in Libia sono tutti sotto il controllo delle legittime autorità e pertanto dell'esercito nazionale libico però esiste una risoluzione delle Nazioni Unite del 2017 la 2362 che impone che il petrolio estratto in Libia venga venduto esclusivamente dalla NOC dalla National Oil Corporation che si trova a Tripoli quindi il petrolio viene inviato a Tripoli dove però in quel punto diventa sotto controllo delle milizie queste milizie trafugano fino al 40% del petrolio libico e lo vendono illegalmente in maniera separata intascandose nei proventi quindi e questo di fatto è lo scopo delle milizie a Tripoli non sono lì per nient'altro fra l'altro visto che siamo in diretta pro parentesi se vi va come ha chiesto anche Riccardo che dice stasera da noi 1 e 6 la benzina e poi chiede anche in chat nei commenti a quanto sta la benzina da voi e anziché fare le pagliacciate per chi ci segue in diretta di spegnere per un'ora le luci in maniera del tutto inutile in finta solidarietà a Zelensky e compagni proviamo a chiedere realmente alla politica e a chi se ne dovrebbe occupare perché non sta affrontando il problema anche solo del caro benzina delle accise di quanto costa tutto il trasporto su ruota e tutti i prezzi che stanno lievitando compresi le materie primarie il pane il latte tutto ciò che di primaria sussistenza a quanta speculazione è dovuta nel totale disinteresse di ogni tipo di premier possibile immaginabile che sia passato oltre al fatto che stiamo assistendo anche ne parlavo l'altro giorno fra l'altro seguite anche il canale Gianluca Lamberti dove trattiamo molta attualità e ci si chiedeva anche con amici ma è un po' strano che di solito ogni governo tira in qualche modo capo espiatorio quello precedente e invece questo non fa che continuare a tessere le lodi a ringraziare Draghi e il governo precedente è quantomeno anacronistico è quantomeno strano questo questo adorare e questo leccaculismo nei confronti del governo precedente solito si cambia governo per avere un punto di rottura per questo che le persone quando andavano a votare alternavano destra e sinistra ad ogni legislatura quantomeno chi arrivava faceva almeno finta di essere in contrasto con quello precedente invece adesso è tutto d'amore è d'accordo però vediamo che da 1,6 1,7 1,75 ricordiamoci che 15 centesimi poi capiamo un minimo in più 15 litri un litro sono 3 centesimi da 3 centesimi a 1,75 a me nei mesi scorsi era capitato di farla anche a 2,4 quindi vi dico che penso di aver raggiunto il top va bene specularci sopra ma pensate a quanta benzina viene fatta ogni giorno quindi vedete un po' il caro vita vedete un po' come sia anche molto facile capire il nemico come agisce ma questo è un discorso arriviamo proprio a quello che è stato un po' il tuo lavoro e come è nato che cosa è venuto fuori e arriveremo poi ai giorni nostri e a tutte le polemiche e i contrasti e i problemi che hai avuto beh sì come ti dicevo appunto entrando in contatto con le persone in Libia hanno cominciato a raccontarmi un paese che non c'era nel senso che era stato raccontato per i motivi sempre che ho spiegato in maniera completamente diversa qui in Italia quali sono diciamo così le questioni più spinose che sin dall'inizio in realtà sin dai primi mesi quando cominciavo a caricare in rete questi messaggi vocali che ricevevo dai migranti in Libia quindi quali sono le questioni più spinose innanzitutto noi dobbiamo considerare un fatto in Tripolitania quindi in Libia ci sono 700.000 migranti di questi 700.000 44.000 sono già coperti dalla protezione internazionale cioè hanno fatto richiesta di protezione internazionale e l'hanno ottenuta dall'ufficio dell'UNHCR a Tripoli queste persone normalmente sono di nazionalità somala o del sud Sudan o dello Yemen o dell'Eritrea o di queste nazionalità dove secondo il diritto internazionale ci sono dei fondati motivi per cui le persone debbano scappare da quei paesi però la stragrande maggioranza viene viceversa dall'Africa occidentale quindi non si è mossa per necessità assoluta al contrario si è mossa dietro raggiro nel senso che le mafie africane nei loro paesi gli hanno proposto un rapido passaggio verso l'Europa dopo pochi mesi di Libia e sulla base di questo loro hanno considerato vantaggiosa la proposta perché rispetto alla vita che facevano un rapido passaggio in Europa hanno pensato che potesse valere la pena il problema che una volta che hanno messo il piede in Libia hanno capito che la storia era diversa perché lo scopo non era quello di mandarli in Europa lo scopo era quello di tenerli in trappola in Libia e quindi di ridurli in schiavitù che significa forza lavoro non retribuita a disposizione delle milizie però c'è anche un altro sistema attraverso il quale le milizie guadagnano producono reddito sulla pelle di queste persone che è la tortura a scopo di estorsione che noi qui in Europa l'abbiamo raccontata più che altro come uno strumento magari per fermare i migranti per non farli venire in Europa no la tortura a scopo di estorsione in Tripolitania è un modo per fare soldi e tanti soldi perché come avviene un ragazzo viene preso messo sotto tortura viene chiamata la famiglia a casa tramite molto spesso il cellulare dello stesso ragazzo quindi tramite internet e gli mostrano sostanzialmente il proprio figlio o fratello che sta sotto la tortura e quindi gli dicono mandate 4 mila euro al più presto altrimenti lo finiamo sotto i ferri ora i calcoli ovviamente non possiamo essere certi però se ci basiamo su quelle che sono le testimonianze raccolte peraltro anche dalle organizzazioni internazionali dei ragazzi che sono passati attraverso la tortura in Libia e se a ogni tortura è corrisposta sono corrisposti 4 mila euro facciamo delle cifre allucinanti al punto che probabilmente la guardia costiera di Tripoli che noi diciamo di finanziare per fermare i migranti arriverebbe a fare ogni anno 4 volte i soldi che l'Italia dice di mandare sulla pelle di questi migranti quindi questo fatto poi cosa produce che dal momento che questi ragazzi non scappano da assoluta necessità e quindi non si trovano nel dilemma o Europa o morte a quel punto che fanno chiedono di tornare a casa perché sanno di essere verosimilmente quella stragrande maggioranza che non metterà mai piede in Europa perché quest'anno che pure sono arrivati molti migranti dalla Libia via mare circa 40 mila più di 40 mila il rapporto se in tutto sono 700 mila quelli che stanno in Libia è 1 su 18 cioè 1 su 18 dei ragazzi che stavano in Libia ha raggiunto l'Italia aggiungo che un altro su 18 è stato recuperato in mare dalla guardia costiera di Tripoli è riportato a terra però 16 su 18 non hanno proprio visto il mare allora se tu cominci a parlare con queste persone che quindi sanno verosimilmente di essere all'interno di questa stragrande maggioranza che non ce la farà mai a raggiungere l'Europa piuttosto che stare in Libia a fare gli schiavi chiedono di tornare a casa ecco questa è una una di quelle che io chiamo i quattro pilastri della narrazione fiabesca degli ONG perché ogni volta che escono questi argomenti e loro sono presenti non si riesce nemmeno mai a fare un dibattito perché non ricevi nemmeno delle critiche è un fuoco di fila praticamente e quindi queste altre altre verità per esempio se non altro il mio lavoro dimostra che la stragrande maggioranza dei migranti in Libia sono online quindi hanno un cellulare frequentano i social e pertanto seguono anche le pagine delle ONG e quindi tramite questo si tengono informati se tornano in mare se sono fermi in porto quali sono le loro intenzioni spesso quindi quando si rivolgono al trafficante per cercare di partire quei pochissimi che hanno il privilegio di rischiare la vita per venire in Europa chiaramente chiedono conferma spesso al trafficante se anche lui risulti che l'ONG in quel momento è il mare ma perché loro hanno bisogno di questa informazione di tenersi in contatto via internet perché c'è un'altra verità che si omette sempre di raccontare qui in Europa e cioè che questi gommoni sgonfi su cui vengono caricati nessuno di loro in quasi dieci anni ormai ha mai raggiunto da solo le coste italiane non è mai arrivato nemmeno a Lampedusa perché non ce la fanno perché dopo un po' si sgonfiano e vanno a fondo senza lasciare traccia a meno che qualcuno non intervenga a un certo punto a salvarli al momento giusto direi quindi lo sanno benissimo che se non ci fosse un dispositivo qualcosa in mare a un certo punto a salvarli loro andrebbero incontro a morte certa al punto che io mi chiedo se questi sono veramente salvataggi se veramente ci stiamo appellando alla legge del mare o che cosa perché in questo caso la legge del mare sì certo che prevede di salvare uno che sta negando ma prevederebbe anche che la gente non debba essere imbarcata su natanti che poi non ce la fanno non sono in grado di raggiungere le coste la destinazione quindi il crimine è commesso all'inizio semmai quindi queste sono alcune delle questioni diciamo così che sin dall'inizio non dai fatti del novembre scorso sin dall'inizio hanno reso ostico e praticamente impossibile il dialogo con i sostenitori dell'ONG proprio per i motivi che spiegavo tra l'altro è ovvio anche a un bambino di prima elementare che in questo meccanismo malato se le ONG sono ovviamente in contatto con chi mette i gommoni e questi natanti pericolosissimi in un determinato punto è ovvio che per prendere il momento giusto questi sono in contatto e se sono in contatto sono complici quindi non si tratta di salvataggio il salvataggio se ci fosse qualcuno che veramente senza scopo di lucro pattuglia delle zone e salva chiunque incontra ma qui è diverso perché in questo sistema se loro li portano fino a lì li torturano li massacrano li impoveriscono li massacrano anche quello che è la loro idea di occidente li tengono in schiavitù e fra l'altro qualcuno diceva ma schiavi è una parola forte è la parola da dizionario quindi siamo ancora in schiavitù guardate anche l'ipocrisia c'è un giocatore che ne abbia parlato no loro rispondono solo ai loro padroni che li fanno inginocchiare di fronte a squadre africane di cui non frega più nulla che loro si inginocchino hanno la fascia arcobalenata fino a che non gli hanno detto che per una pericolosissima munizione hanno rinunciato e chi se ne frega dei loro ideali ma di queste cose della schiavitù nel 2022 dall'altra parte del mare in situazioni che veramente potremmo vedere con i nostri occhi perché noi siamo proprio al centro del Mediterraneo per noi sarebbe molto più facile fraternizzare con chi è dall'altra parte del mare e va contro ogni regola di chiunque abiti vicino al mare c'è la legge del mare che non consente confini geografici ma loro si dipingono con queste tematiche WOC questo DEM che non è democratico da tanti anni ormai è demoniaco e non ci si può parlare sono dei dittatori sono degli schiavisti complici proseguiamo voglio solo aggiungere che sai la mia ricerca si conclude a poche miglia dalle coste libiche io mi occupo soprattutto di Libia quindi una volta che vengono salvati da lì in poi se c'è qualcuno che ci guadagna su tutto questo magari sì probabilmente sì ma non è oggetto della mia ricerca però constato un fatto che sicuramente queste narrazioni fiabesche fanno disastri soprattutto nel momento in cui un ragazzino africano decide di lasciare il proprio paese perché le mafie africane mostrano spesso le foto i video dei salvataggi nel momento in cui promettono un rapido passaggio verso l'Europa quindi questi ragazzi arrivano in Libia già imparando quello che dovrebbe essere il meccanismo virtuoso solo che poi nel momento stesso in cui arrivano in Libia imparano anche che la verità è un'altra e che quindi lo scopo era semplicemente o quasi semplicemente quello di portarli in Libia per essere trasformati lì in schiavi al punto che l'Europa ormai più che una destinazione per loro è diventata un'esca queste sono esattamente le parole che loro usano per raccontare per raccontare la vicenda e arriviamo quindi di tutto queste ricerche tu che cosa ci hai fatto sì io appunto come dicevi in apertura sono regista di documentari quindi all'inizio tutto questo lavoro doveva essere il trattamento in vista di un documentario sin dall'inizio però devo essere onesto mi sono reso conto che aveva in mano qualcosa di veramente grosso che sarebbe verosimilmente andato al di là del documentario il documentario è stato girato nel 2019 concluso poi successivamente tra il 2020 e il 2021 però poi negli ultimi mesi cioè precisamente lo scorso settembre è uscito anche un libro omonimo edito dall'antidiplomatico questo libro è in vendita quindi questo almeno il libro si può trovare e peraltro molte quasi tutte le testimonianze che poi sono nel film sono riportate anche nel libro in che senso nel senso che nel libro si troveranno ogni testimonianza raccolta di ragazzi o di libici anche in Libia fa riferimento un QR code attraverso il quale poi si può ascoltare l'audio originale online giusto perché per scongiurare questo questo vizio negli ultimi anni di attribuire virgolettati un po' fantasiosi ai migranti quindi qua è possibile andare ad ascoltarsi l'audio originale a vedersi i video originali girati dai ragazzi in Libia e poi ovviamente che leggerli in lingua italiana all'interno del libro quindi il libro sta andando benissimo lo sto presentando il film è tutto un altro capitolo ovviamente perché non è soltanto la questione legata ai fatti di Napoli di cui immagino vorrei parlare ma in realtà segnalo che ormai il film è pronto da più di un anno ma nonostante questo il produttore fino ad oggi ha negato ogni tipo di distribuzione benché poi in realtà il film sia stato proiettato in diverse città italiane non solo è stato proiettato anche a Istanbul e anche a Benghazi in Libia quindi insomma le proiezioni se ne sono fatte però mancando una distribuzione è chiaro che è molto difficile portarle in giro finché poi alla fine si sono addirittura verificati i fatti di Napoli adesso ci arriviamo però anche qui ovviamente non è presente il produttore ma è contro ogni suo interesse aver investito dei soldi e poi bloccare la distribuzione che consentirebbe in qualche modo il ricavo di ciò che è stato l'investimento e poi sta ad ognuno a vedere se può anche ambire a un guadagno o meno ma di solito chi investe o un produttore lo fa per ragioni fiscali quindi per scaricare dei soldi dal fisco perché ci sono anche delle leggi di cui prima o poi si dovrà anche parlare di tutto il riciclaggio e del come mai molte case cinematografiche anche molto importante in realtà siano delle enormi lavatrici in mano a delle famiglie che proprio già sono etichettate da tutta l'opinione pubblica se si sapesse si rendesse noto a chi appartiene metà cinecittà sono le stesse famiglie che per anni hanno letto sui giornali per altre cronache però detto questo il produttore avrà le sue ragioni ma è quantomeno non proficuo per le sue task è quantomeno un investimento strano quello di mettere dei soldi e poi decidere di bloccare tutto avrà le sue buoni ragioni non è presente ma quantomeno ci puoi riportare quelle che sono state le sue motivazioni ma le motivazioni sono di natura economica cioè secondo lui le offerte che gli hanno fatto non erano vantaggiose per cui si riserva di aspettare quella buona quella giusta però chiaramente è successo anche qualcos'altro nelle ultime settimane perché in seguito alla censura e allo squadrismo buonista di Napoli del 25 novembre a Napoli poi è successo che come dire si è creato un gioco perverso tra lui e alcune persone che si sono messe a fingere di accusare il film di alcune manchevolezze diciamo così e il produttore sta al gioco perché finge a sua volta di spaventarsi di queste minacce che sono basate esattamente sul nulla e quindi pertanto mi avrebbe addirittura chiesto di non di sospendere ogni tipo di proiezione cosa che ovviamente io non farò tant'è vero che domani a Roma alle 21 al piccolo teatro Garbatella ci sarà una proiezione alla quale ovviamente sarò presente quindi le proiezioni continuano benché non ci sia una distribuzione quindi tantomeno un passaggio televisivo però le motivazioni più o meno sono quelle adesso subentra quest'altra pressione che è quasi un'intimidazione direi perché il film non venga visto io non so veramente cosa possa animare ormai a questo punto il produttore a non consentire una regolare distribuzione del film perché come dicevi tu soprattutto in queste ultime settimane le richieste si sono accresciute quindi tutto depone diciamo così per una rapida distribuzione del film al momento la situazione è questa però ci saranno sviluppi ovviamente perché non possiamo non posso certamente accontentarmi di questa situazione non posso assolutamente accettare che non solo se sia verificato un atto di censura conclamata e alla quale peraltro come dire adesso ci arriviamo non è che abbia nemmeno ufficialmente preso le mie difese quindi io non posso accettare che dopo questi fatti addirittura mi devo sentire che non che non sarei autorizzato a proiettare questo allora ti dirò di più io a mio modo ci tengo a fare bene quello che sarebbe il mio lavoro di giornalista quindi se il tuo produttore vorrà aggiungere qualcosa ben lieti siamo a disposizione se ha un comunicato da mandarci io lo guarderò volentieri e in caso contrario sarà il tempo a dare poi le risposte ma lasciando in sospeso questo discorso arriviamo a i fatti di cui poi di lì a pochi giorni ci siamo conosciuti cos'è successo a Napoli e poi proviamo a fare il gioco del facciamo finta che a parti inverse quindi proviamo a vedere la stessa situazione facciamo uno sforzo mentale tutti quanti visto che siamo anche piano piano in barba allo shadow ban cominciamo a recuperare i numeri che sono nostri soliti proviamo a fare uno sforzo a ipotizzare sia in chat che nei commenti a parti alterne quindi a colori e a in qualche modo trend di moda e di propaganda in Bersi che cosa sarebbe successo cos'è accaduto a Napoli vabbè l'ho già raccontato ovviamente diverse volte c'era questa proiezione dell'urlo sono stato invitato dal direttore del festival per questa proiezione per questo evento speciale che si sarebbe tenuto la giornata precedente alla giornata conclusiva del festival quindi alle prime azioni peraltro il direttore del festival in collegamento con la sala avrebbe anche sostenuto che io avrei insistito per essere presente al contrario quando ci siamo sentiti per telefono e mi aveva spiegato che tipo di serata stavo organizzando gli avevo fatto presente che c'erano alcune alcune criticità che si sarebbero potuti verificare dei rischi proprio perché sapevo la mancata attitudine di certe persone al confronto al contrario però mi è stato promesso che ci sarebbe stato questo confronto e pertanto io sono stato felicissimo di avere a disposizione finalmente un momento pubblico in cui confrontarmi con alcuni degli esponenti delle ONG italiane che erano seduti in prima fila però purtroppo questo confronto non si è tenuto perché dopo 20 minuti di proiezione su 80 che dura il film in particolare una persona tra questi esponenti delle ONG si è alzata in piedi e la console era lì a fianco quindi ha intimato al tecnico di bloccare la proiezione ha preso un microfono e ha cominciato con un profluvio di esternazioni deliranti poi il microfono è passato di mano a tutti gli altri che occupavano la prima fila e tutti si sono sentiti in diritto di dargli all'untore anziché denunciare il fatto che in un festival normale di fronte a un atto del genere verosimilmente gli organizzatori chiamano la polizia e chiedono che la proiezione sia ripristinata immediatamente invece lì è stato proprio come dire un proscenio così di persone che inneggiavano impunemente alla censura io peraltro non sono intervenuto perché chiaramente nel momento in cui si verifica una violenza di questa portata se io nel momento in cui intervengo è come se legittimo i miei interlocutori quindi ho semplicemente chiesto in vano per 30 minuti agli organizzatori di farmi avere perlomeno il microfono in modo che potessi non tanto rispondere a quello che avevano detto questi esponenti delle ONG quanto piuttosto lanciare un ultimo messaggio agli spettatori a quelli che erano in sala alle persone che erano venute a vedere il film visto che è già così raro avere la possibilità di vederlo e che invece avrebbero voluto continuare con la proiezione però non mi hanno dato nemmeno il microfono per cui alla fine dopo una mezz'oretta ho abbandonato la sala quindi oltre a questo è fascismo io spero tu abbia denunciato queste persone perché sono meritevoli quanto meno di denuncia e sono fortunati ad aver trovato una platea e te che sei stato un signore perché altrove non sarebbe finita così dopodiché se è stata fatta regolare denuncia spero che vadano avanti perché nel 2022 nei festival fra l'altro siamo anche abituati a sorbirci delle cazzate in mani provocatorie di qualunque tipo quindi roba veramente che non sta né in cielo né in terra delle puttanate di propaganda verosimili e nauseabonde e mai nessuna è stata fermata e provate a pensare se mai ad una cagata di propaganda woke qualcuno avesse anche solo alzato la manina facendo finire un minuto prima i titoli di coda sarebbe finito su tutti i giornali e invece nel tuo caso cos'è accaduto fra l'altro tra l'ignavia dell'organizzatore stesso perché l'ignavia è un peccato capitale quindi anche chi si fa bullizzare in quel modo e non si fa le sue ragioni per me è colpevole ancor peggio dei bulli che hanno e dei criminali che hanno fermato in qualche modo nel 2022 non nel 33 nel 2022 hanno fermato la proiezione di un qualcosa di un lavoro si beh il direttore del festival non era presente in sala perché era ammalato quindi era a casa però effettivamente quando poi è stato messo in collegamento con la sala io non potrò dimenticare che che lui ha chiesto scusa agli esponenti degli ONG per aver selezionato il film non ha chiesto scusa all'autore per l'interruzione cioè abbiamo veramente qualcosa siamo nell'iperuraneo proprio siamo al di là della realtà del principio di realtà e quindi niente questi sono i fatti poi se vi vuoi chiedere qualcosa in particolare vorrei capire poi cos'è accaduto dopo perché poi ho letto ci sono anche degli articoli che riguardano anche Torino poi ci arriviamo ma la solidarietà qualcuno si è mosso io da subito ti ho espresso solidarietà e poi ci sono stati dei problemi altrimenti di lì a un paio di giorni saresti già stato mio ospite ma io sono veramente una formica rispetto ad altre realtà che avrebbero potuto mobilitarsi allora possibile che ci dobbiamo esporre sempre noi c'è stato qualcuno che ha provato a usare il suo nome a usare il suo tempo per rendere un po' giustizia quanto è accaduto ma effettivamente solidarietà poca diciamo molte persone dalla cosiddetta area del dissenso chiaramente e poi quelle che sono risultate più altisonanti sono chiaramente la la solidarietà ricevuta dal presidente del senato la russa e poi anche il quotidiano libero in quei giorni ha pubblicato diversi articoli andando a spulciare tra il materiale che io avevo pubblicato negli ultimi quattro anni peraltro io sono stato in senato ricevuto dalla russa ho deciso di andare perché pensavo fosse un atto formale da celebrare cioè il fatto che la seconda carica dello stato sia intervenuta in un caso come quello e spero che rimanga precedente per eventuali episodi futuri che si debbano verificare dopodiché ovviamente non sono andato lì a fare le passerelle anzi ho approfittato della situazione per cercare di far presente al presidente del senato che ci sono tutta una serie di cose che l'Italia potrebbe fare con la Libia Libia che penso che lui conosca bene però non di meno io già che c'ero mi sono sentito in dovere di fargli notare tutta una serie di cose e peraltro già che c'ero e che appunto incassavo in qualche modo la solidarietà anche del del suo partito politico gli ho chiesto di impegnarsi per esempio su una interrogazione parlamentare che fu presentata lo scorso luglio sulla base di un documento ufficiale del cosiddetto governo di Tripoli di cui sono entrato in possesso che dice sostanzialmente che i fondi ricevuti dal governo di Tripoli dai governi europei in questi anni non sono stati utilizzati alla voce migranti anche se erano fondi umanitari ma sono stati utilizzati per altre esigenze del governo ora l'interrogazione parlamentare presentata a firma di Petrocelli e Dessi è stata rivolta all'allora presidente degli esteri Di Maio che però non ha mai risposto per via della fine prematura della legislatura pertanto ho chiesto al presidente la russa e agli altri che mi avevano contattato dal suo partito di prendere questa interrogazione e di ripresentarla il prima possibile e che quindi avrei valutato come dire la consistenza della loro solidarietà sulla base di questo atto al momento non ho novità questo è anche il motivo perché questa fugace luna di miele con la stampa di destra si è interrotta piuttosto presto anche questo io non so se lo sai ma sono stato fautore dell'astensionismo perché se quello che c'è a sinistra mi fa letteralmente schifo la destra prova a mettere il cappello ma sostanzialmente a parte la passerella e provare a far finta che fa qualcosa ha avuto quello che in gergo tennistico si dice diversi match point che decide di non giocare quindi questi sono nella migliore delle ipotesi complici nella peggiore non si possono muovere per ricatti o corruzioni perché non si spiega perché da subito io immagino in altre a parti inverse ci sarebbe stata una mobilitazione intera di VIP in pompa magna con tappeto rosso ritornare nello stesso teatro di Napoli che per 24 ore in interrotte avrebbe trasmesso all'unanimità e a reti unificate il tuo lavoro pensate un po' alla parte opposa e detto ciò ha fatto sta roba giusto perché c'era imbarazzo delle istituzioni quindi ha fatto il minimo indispensabile e per ora e anche qui dubito che vogliano dire la loro perché tacciano in qualche modo un po' su tutto ma laddove volessero dire io di sicuro non mi tiro indietro nei confronti delle istituzioni che per il mio lavoro ho incontrato spesso anche a livello regionale so benissimo come la pensano come si muovono e che non accetterebbero mai un'intervista senza domande concordate quindi li invito pubblicamente per far vedere che magari mi snobberanno ma in realtà più che per snobbismo è perché avrebbero paura di una domanda abbiamo visto Draghi come scappa di fronte all'unica domanda che gli è stata posta vediamo un Conte che senza Rocco Casalino che gli sceglieva le domande non si presentava neanche faceva le dirette con le bimbe di Conte e questo è quella pagliacciata che chiamano in qualche modo democrazia e partecipazione attiva al voto alla politica e al tradimento di qualunque tipo di ideali arriviamo quindi ovviamente Napoli anche nei confronti di tutte quelle persone che hanno investito il loro tempo per venire non c'è stato nulla quindi nessuno si è permurato quantomeno di dire vabbè ti diamo un'altra sala quantomeno per scusarci delle persone no è finita così come quando bruciavano i libri e arriviamo agli articoli di Repubblica del Corriere della Sera vuoi dire? sì scusami del Corriere della Sera no vabbè dunque il 13 dicembre scorso è apparso questo pezzo di Davide Ferrario regista torinese se non sbaglio sulle pagine locali del Corriere della Sera di Torino perché? perché ci sarebbe dovuta essere una prima proiezione il 7 dicembre al Museo del Cinema di Torino che poi è stata spostata al 12 di dicembre e poi non si è più tenuta proprio per i motivi che ho spiegato prima perché il produttore finge di essere spaventato da finte minacce e quindi la copia per la proiezione doveva mandarla il produttore e il produttore non l'ha mandata quindi la cosa è finita proprio così perché in alternativa a Torino l'avrebbero proiettato cioè sì perché c'era stato un appello sempre di una deputata di Fratelli d'Italia perché il festival di Torino invitasse il film solo che giustamente il festival era ormai quasi concluso e quindi hanno proposto di organizzare una proiezione nei giorni successivi però come ti spiegavo la proiezione è stata in un primo momento rinviata e poi il 12 definitivamente cancellata pertanto il 13 dicembre è uscito questo articolo esatto che stiamo vedendo online di Davide Ferrario dove lui dice che è venuto per due volte a vedere il film che si rammarica di non poterlo vedere e che ti posso dire innanzitutto invito chiaramente chi ci segue a leggerlo peraltro questo articolo è online a questo articolo io ho risposto con una replica che è stata pubblicata il 18 quindi domenica scorsa purtroppo non c'è la versione online di questa replica l'ho dovuto pubblicare sull'antidiplomatico perché non mi hanno concesso questo privilegio di avere anche la versione online della mia replica ma comunque insomma qual è il punto il punto è che sì è veramente paradossale che dopo un episodio di censura peraltro che è stato denunciato da pochi in Italia come abbiamo detto si è arrivata addirittura la macchina del fango si è entrata in azione la macchina del fango come se di censura non ce ne fosse abbastanza e insomma ci sono un po' di siti che hanno scritto delle cose veramente strampalate e senza fondamenti in queste settimane e vabbè ognuno è libero di scrivere quello che vuole però è sorprendente che diciamo un intellettuale come Davide Ferraria sulle pagine del Corriere come dire si abbeveria la fonte di questi pozzi avvelenati e chiede a me l'onere della prova cioè io già sto con le mani legate già mi hanno censurato una proiezione cioè il produttore che si mette di mezzo e chiede a me l'onere della prova di sostanzialmente provare che quanto detto nel film sia veritiero o no però come gli faccio notare nella replica siccome sono comunque quattro anni che io carico questo materiale in rete peraltro è stato trasmesso in molte trasmissori radiofoniche persino da radio radicale nella quale ciclicamente vado a trasmettere questi audio perché loro me li chiedono ed quindi è giusto portare questi audio anche in un pubblico che normalmente è abituato a sentire cose completamente diverse e pensa che addirittura Roberto Saviano nella primavera del 2021 quindi l'anno scorso un anno e mezzo fa sulla prima pagina sempre del Corriere della Sera in un editoriale raccomandava all'allora premier Draghi di seguire il mio lavoro se avesse voluto capire qualcosa in più sulla Libia cioè questa è la follia capirai prima perché pensava evidentemente pensava potesse seguire te lo dico chiaramente qui la sinistra e la destra sono quattro anni che usano il bastone e la carota perché chiaramente vorrebbero entrambi che io caschi nel loro terreno quindi o usano la censura e ci vanno giù pesanti l'abbiamo visto o usano le lusinghe dall'altro lato e quindi la solidarietà però quando gli conviene dipende dipende qual è l'argomento io tratto molti argomenti nella mia ricerca ci sono molti argomenti che non vanno bene alla sinistra molti argomenti che non vanno bene alla destra secondo l'argomento di cui si parla c'è qualcuno contro qualcuno a favore però il discorso è che quella che io chiamo la reduzione ad opinione perché poi quando mi tirano in ballo mi dicono ah perché Severnini la pensa così perché lui fa dire questo no 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 aspetta un attimo io sto riportando e ve le faccio sentire in lingua originale quello che centinaia di persone dalla Libia hanno documentato poi saltano fuori dei ragazzini che rappresentano poco più che se stessi che si autoproclamano rifugiati in Libia che dicono no noi rifugiati in Libia non siamo d'accordo ma ci sono 44.000 rifugiati in Libia può essere che questi quattro rappresentino 44.000 persone in Libia ora che poi la questione che loro vorrebbero dimostrare è che nel film si dice che tutti dalla Libia devono tornare a casa non è così allora ci sono 44.000 sono già protetti dalla protezione internazionale questi 44.000 devono volare immediatamente da Tripoli verso paesi sicuri verosimilmente verso l'Europa però già ridistribuenti a monte cioè da Tripoli verso le capitali europee aggirando gli accordi di Dublino che arrivano tutti in Italia poi vediamo questi devono volare come tutti gli esseri umani non come gli animali ad attraversare il mare in quel modo barbaro dopodiché gli altri quelli che non hanno diritto quelli ai quali gli hanno raccontato andate che comunque entrate lo stesso che adesso si trovano invece nei casini per non dire di peggio perché sono in stato di schiavitù e ciclicamente sottoposti a tortura a scopo di estorsione se questi se loro dicono ragazzi portatemi a casa perché tanto io ho perso la speranza di venire in Europa portatemi a casa se dicono questo io glielo lascio dire siccome te la dico anche tutta quando stavamo per cominciare il film è venuto anche un esponente della Open Society Foundation a proporci soldi a dirci bellissimo questo lavoro però l'argomento dei ragazzi che chiedono di tornare a casa lo devi eliminare ecco che l'argomento tre anni e mezzo dopo ritorna a galla sostanzialmente come un bel pezzo scusami vabbè mi stava venendo un perché 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 questo è uno dei pilastri della narrazione sviavesca quindi questa è propaganda di guerra ragazzi qui non si vuole far parlare le fonti non sono opinioni mie sono le persone in Libia qui stiamo parlando di ragazzi in qualche modo plagiati dal sistema evidentemente che stanno censurando loro fratelli africani in Libia come loro però siccome sono di altre nazionalità e non hanno diritto alla protezione internazionale e non hanno mai diritto a un volo gratuito dalla Libia all'Italia o all'Europa allora queste hanno due alternative o rischiare la vita in mare o rimanere a fare gli schiavi in Libia senza un domani oppure tornare a casa allora se alcuni di questi chiedono vogliamo tornare a casa se vai a comprendere fino in fondo le loro storie è ragionevole è come dire è evidente è tutto evidente che c'è del sale in zucca in quello che stanno dicendo però come ti dicevo ci sono queste narrazioni fiabesche che mettere in discussione provoca il fuoco il fuoco di fila per cui pazienza dicano quel che vogliono ma qui abbiamo le prove quello che hanno in mano loro sono narrazioni fiabesche poi non sta neanche a te essere avvocato tu hai fatto un lavoro ti va dato adito del lavoro che hai fatto e ti va reso onore al sacrificio e a tutte le ore di lavoro e tutti gli anni di lavoro che hai impiegato punto adesso non sta ne è scritto nessuna parte che devi essere avvocato giudice andare a difenderti da chiunque andare a vedere perché e come queste organizzazioni sovranazionali si possano uovere anche perché a me è spiaciuto di non poterti incontrare fisicamente a Torino ma ci sarà sicuramente occasione poi visto che siamo in diretta ci sono tante domande quindi dopo se ti fa piacere arrivo anche da voi in chat però poi cosa accade accade che il karma ci mette la manina che mentre eri da solo come Don Quixote contro i mulini a vento proprio come un romanzo di Cervantes in qualche modo però arriva un aiuto perché proprio in quei giorni lì Qatargate le ONG Emma Bonino Sumahoro e compagnia cantante quindi guarda un po' dopo tutto il casino e quello che sta accadendo però qualcosa dall'alto sta accadendo anche lì e guarda caso diventa motivo di ulteriore imbarazzo quello che è il tuo lavoro quindi ti chiedo un commento su Sumahoro Emma Bonino il Qatargate e se tutto ciò in qualche modo sta come in alto così in basso andando a avere a influire a in qualche modo a modificare o ad agire se ne stai vedendo un po' i risultati di questi scossoni o inizio di scossoni perché secondo me siamo ai primi ai primi battiti quindi tutto avveniva nella quiete prima della tempesta chiaro sì ma guarda Sumahoro non voglio dire molto perché perché vabbè io chiaramente in questi anni avevo sempre notato come certe figure non solo lui ci sono molti altri africani intellettuali in qualche modo che entrano nel dibattito pubblico italiano e avevano notato come nessuno di loro fosse in grado di raccontare la situazione libica per quello che è e loro in quanto africani sicuramente avevano molte più fonti che non ovviamente noi italiani e invece come dire si sono limitati alla denuncia degli abusi va bene ok sì in Libia abusano la gente sì d'accordo quindi che facciamo apriamo i porti sì ma aspetta un attimo le cose vanno comprese vanno capite fino in fondo altrimenti non puoi come dire buttare lì soluzioni preconfezionate no no lì c'è un sistema di potere da denunciare dobbiamo denunciare che soltanto il 20% del territorio libico è fuori controllo e lì ci stanno i centri di detenzione lì c'è la schiavitù lì c'è la tratta di esseri umani 80% di Libia ormai è un paese pacificato e sicuro da anni queste cose qui un africano le sa le sa benissimo però perché queste persone non le raccontavano perché quando io anche ho cercato di contattarli non rispondevano allora a me era piuttosto chiaro che stavano facendo qualcos'altro non stavano certamente lottando per gli ultimi in quel momento stavano costruendo carriere stavano probabilmente portando avanti il loro pezzo di narrazione fiabesca anche perché questo sicuramente poi produce in qualche modo dei ritorni però più volentieri ti parlo invece del Qatargate perché credo che qui veramente siamo arrivati al nodo della questione perché io temo che questa congiuntura a livello internazionale che si è prodotta tra Turchia e Qatar e che ha dato vita appunto alle rivoluzioni arabe prima e a tutto quello che è successo dopo in qualche modo nascano proprio da abbiano la stessa matrice di quello che sta succedendo oggi con lo scandalo e con delle mazzette dei parlamentari europei perché perché dobbiamo considerare che il gas del Qatar questo soprattutto i pozzi offshore sono stati scoperti meno di vent'anni fa e quindi che succede che alla fine degli anni duemiladieci il Qatar scopre di avere delle delle somme imponenti di gas che quindi desidera vendere ovviamente tant'è vero che il progetto iniziale era che il gasdotto dal Qatar attraversasse tutto il Medio Oriente attraversasse persino la Siria per arrivare fino alla Turchia e portare poi il gas fino in Italia e in Europa ci ricordiamo anche le proteste in Puglia sulle del no tap quindi questo è tutto gas catariota che è stato deciso che avrebbe dovuto raggiungere l'Europa ormai una decina di anni fa e a seguire ricordiamo che il Qatar è il terzo produttore di gas al mondo quando succede questo che succede che è un fatto succede un fatto che io in realtà denuncio ormai da anni e c'è quella che io chiamo la corrispondenza di amorosi sensi tra le milizie libiche e l'ONG in Europa perché loro nominalmente si accusano a vicenda e di fatto dovrebbero essere le cose più distanti perché quelli sono delle milizie che torturano i migranti e queste giustamente loro sono per i diritti umani quindi dovrebbero essere due entità le più distanti tra loro però in realtà leggendo tra le righe c'è sempre una corrispondenza di amorosi sensi e non è un caso oggi lo vediamo perché le milizie libiche anche lì sono finanzate dal Qatar il Qatar ha sponsorizzato al Nusra ha sponsorizzato l'Isis in Libia soprattutto sono stato a Benghazi Benghazi è stata occupata dall'Isis per tre anni finché l'esercito nazionale libico non l'ha liberata e lì lo sanno benissimo chi c'era sul campo dietro l'Isis e stiamo parlando del Qatar perché qual era l'obiettivo del Qatar di rendere un puttanaio la Libia in modo che il gas catariota potesse soppiantare come di fatto è successo il gas libico quindi queste sono tutte cose che sono collegate tra loro e poi per esempio ti parlo di questa cosa perché ti dimostra questa corrispondenza di amorosi sensi quando le ONG protestano contro gli accordi con la Libia i governi italiani che rinnovano questi accordi con la Libia per fermare i migranti dicono che i governi italiani mandano i soldi a Tripoli per fermare i migranti ecco questa è una frase proprio che non si non si può sentire è sbagliata nella terminologia è sbagliata nella sostanza innanzitutto i governi italiani non mandano i soldi alla Libia mandano i soldi a queste milizie ok però se tu non me le chiami milizie me le chiami Libia mi stai promuovendo questi gruppi armati a rappresentanza dell'intero paese mentre se se e così facendo rendi le legittime autorità della Libia le stai declassando a un'assemblea di condominio perché se questa è la Libia allora quegli altri cosa sono ok da un lato dall'altro sì chiaro che entrano nel merito dei soldi mandati per fermare i migranti ma dopo la scoperta di questo documento di cui ti parlavo un documento originale del governo del cosiddetto governo di Tripoli abbiamo un'altra prova in mano un'altra prova storica cioè quei soldi non sono legati alla migrazione sono legati evidentemente ad altre esigenze del governo di Tripoli e quali sono queste esigenze possono essere due o direttamente il finanziamento militare quindi per l'acquisto di armi per questo dispositivo militare che protegge di fatto Tripoli dal resto della Libia oppure per il petrolio perché noi sappiamo questi sono dati che ci forniscono i libici che negli ultimi anni il 40% del petrolio libico è stato rubato dalle milizie e immesso illegalmente nelle economie di Malta Italia Grecia e Turchia non sappiamo in quale percentuale ma questi sappiamo per certo sono i quattro paesi che hanno beneficiato di questo petrolio illegale peraltro c'è anche c'è stata un'indagine della procura di Catania nel 2018 che ha certificato come il petrolio rubato nella città di Zawia in Tripolitania in Libia arrivasse poi sulle coste italiane quindi ecco che in qualche modo questi due soggetti le milizie libiche da un lato e le ONG e in particolare le istituzioni europee perché alla fine lo sappiamo benissimo quanto il Parlamento europeo si è infiltrato da lobby però io per esempio che diciamo sto seguendo la questione da anni mi sono sorpreso nel momento in cui quando la von der Leyen è diventata diciamo presidente della commissione della commissione europea è stata lanciata la politica della ridistribuzione la Ilva Johansson è quella che ufficialmente ha lanciato la politica della ridistribuzione che significa che quando i migranti vengono salvati poi dall'Italia vengono ridistribuiti negli altri paesi ma a parte che questo è un meccanismo abbiamo visto che poi si inceppa ma il discorso è un altro che io non la chiamerei ridistribuzione questa è selezione naturale perché se tu vai a ridistribuire chi hai salvato quando la maggioranza rimane indietro o se non affoga in mezzo al mare questa è selezione naturale però questa che era la politica ufficiale ed è tuttora la politica ufficiale dell'Unione Europea è una politica a tutto avvantaggio delle ONG perché se tu stabilisci come Unione Europea che devi ridistribuire chi viene salvato significa che qualcuno deve salvare e quindi significa che tu stai promuovendo questa azione però qui non si tratta di salvare persone qui si tratta di smantellare milizie a Tripoli che anziché bloccare e fermare la migrazione negli ultimi anni l'hanno moltiplicata perché era loro interesse portare ad escare quanti più ragazzini africani dai loro paesi fino alla Tripolitania dove sarebbero potuti essere ridotti in schiavitù quindi in questi giorni stiamo vedendo in un solo fermo immagine tutto tutto quello che è successo negli ultimi dieci anni nel Mediterraneo lo vediamo chiaramente perché proprio perché il Qatar ha deciso come dire si è offeso per queste notizie che sono uscite peraltro faccio notare e chiudo che queste notizie escono all'indomani di una insolita visita di Putin in Arabia Saudita quindi io da ora in avanti monitorerei la rivalità tra Arabia Saudita e Qatar perché pare che il Qatar abbia un po' esagerato ultimamente l'Arabia Saudita non sia più così contenta della vicinanza e evidentemente hanno avuto a un certo punto l'interesse di mettere il bastone tra le ruote a questo idillio appunto questa triangolazione tra Qatar Unione Europea e milizie libiche quindi credo che ci saranno sorprese su parecchi fronti prossimamente grazie Michelangelo perché diciamo che questo punto di vista è essenziale ed è preziosissimo per capire dove guarda l'occhio di Sauron tra virgolette ma guardate anche che piega prendono alla luce di questi fatti la missione fallimentare ma decantata dal leccaculismo giornalistico italiano di Draghi in Algeria o tutti i viaggi di tutti gli esponenti politici degli ultimi anni in Qatar che tornavano con messaggi entusiasti tweet entusiasti di tutto ciò che andavano a fare a vedere eccetera eccetera non da meno anche la posizione di questo top player della politica italiana che è Gigino Di Maio che devono a tutti i costi metterlo come emissario del golfo lo stesso golfo in cui la sua controparte un certo greco si è visto che ha preso tipo 60 mila euro per due consulenze dal Qatar dice no 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 ma la von der Leyen lo sapeva io ho fatto un regolare lavoro e se poi forse adesso poi ce l'abbiamo sull'editoriale se mi dai anche così vi dico anche e mi dite se secondo voi nel 2022 questa non è corruzione legalizzata questo signore come si è in qualche modo giustificato di questa ingente somma dicendo ma il capo lo sapeva la von der Leyen lo sapeva quindi non capisco perché mi volete mettere in cattiva luce Mesve dimmi quando la trovi così per dover di cronaca andiamo in qualche modo a mettere i puntini su lei perché anche queste sono veramente notizie dell'ultima ora i capi espiatori faranno i capi espiatori si tireranno dietro qualcuno si allargerà questa questa macchia della corruzione questo cadere dalle nuvole che l'Unione Europea c'è della corruzione se c'è per queste cose figuriamoci il resto eccolo qua mazzette in Unione Europea la commissione avvia indagini tra la sua attività di Avramopoulos per le ONG di Panzeri quindi vediamo un pochettino se arrivi anche alla cifra io chiedo scusa ma è piccolino non la leggo grazie di cuore fra l'altro a Giuse grazie di cuore a chi sta contribuendo in chat anche Riccardo e tutti coloro ecco 60.000 euro nell'arco di un anno 5.000 euro al mese per due conferenze e un articolo quindi per le ONG due conferenze e un articolo 60.000 euro beh direi che dovranno essere state le conferenze in cui hai raccontato la ricetta della felicità da le ONG fra l'altro la Fight Impunity la stessa di cui la Emma Bonino faceva parte alla sua insaputa e quindi adesso prendono tutte le distanze dal Titanic che affonda ovviamente personaggi che si sono riempiti la bocca e la faccia di finto buonismo ovviamente sappiamo come funziona la magistratura però grazie perché è interessante la conferenza è un articolo 60.000 euro e non è corruzione sia mai si dice che corruzione è lavoro giustamente remunerato quindi comunque grazie di cuore agli abbonati che contribuisce in chat andiamo con mi scrivete domanda me l'andate a fare se vi va Michelangelo a parte ricordare anche come supportare il tuo lavoro come contattarti e ricordiamo anche almeno il libro che è uscito dove si può acquistare grazie di cuore e soprattutto le prossime proiezioni tra cui quella di Roma mi piacerebbe che anche con l'OM presente chi è in quella zona possa andare a sostenere questa iniziativa quindi facciamo finta che appoggia sicuramente le tue iniziative fammi sapere perché anche sui nostri canali Telegram divulgherò quello che tu farai il tuo lavoro perché merita quanto meno giustizia ecco ti ringrazio quindi sì il libro è acquistabile innanzitutto sulla piattaforma You Can Print ma è ordinabile anche nelle librerie e poi ci sono anche altre piattaforme online ovviamente che vendono il libro poi c'è un gruppo Facebook un gruppo Telegram attraverso cui tenersi aggiornati ci sarà questa proiezione domani a Roma poi le proiezioni riprenderanno nella seconda parte di gennaio chiaramente è possibile invitarmi a organizzare quindi una proiezione sul territorio come già ce ne sono state insomma in questi ultimi mesi nell'attesa diciamo che si sblocchi la situazione a livello produttivo e che magari si possa raggiungere una piena distribuzione del lavoro grazie di cuore Chiara Reggiani per la donazione in chat è veramente che tu sai il nostro simbolo è l'OM e quindi che l'OM possa accompagnare cascate di OM in chat di presenza andate proprio a stringere la mano e a far vedere quella che è la solidarietà di persona negli eventi dal vivo quando si può perché Michelangelo se lo merita e secondo me è stato preso in giro abbastanza quindi serve un po' di umanità e di conforto per quello che è il tuo lavoro non ti arrendere se no ma guarda ti dico la verità da un punto di vista personale cioè mi sta scivolando tutto addosso perché se hai di fronte a te persone disinformate in malafede cioè le critiche veramente mi scivolano addosso come autore come invece cittadino certamente quello a cui assistito è stato qualcosa di increscioso però di cose incresciose e patetiche in queste ultime settimane ne sto vedendo molte ognuno fa quello che vuole io vado per la mia strada bravissimo mi fa veramente piacere leggere cioè sentire queste tue parole e leggere i commenti che ti stanno dicendo quindi Chiara Eine Giuse Riccardo e Federico ti fa una domanda in parte hai già risposto dove si può vedere il film nelle varie presentazioni qualcosa hai già detto rivedete anche un po' la domanda seguitelo anche sul gruppo Telegram allora domanda di RDM come mai visto l'alto numero di persone che sceglie ritornare indietro la gente che parte non conosce questa realtà perché non viene raccontata da chi rinuncia no ottima domanda mi dà l'occasione per dire per raccontare che in realtà negli ultimi due anni gli ingressi in Libia sono crollati cioè la gente sempre di meno entra in Libia dall'Africa subsahariana proprio perché in questi anni 60.000 migranti sono stati rimpatriati con voli volontari e gratuiti da Tripoli alle capitali dei loro paesi quindi questi 60.000 che sono tornati a casa hanno raccontato chiaramente cos'è la Libia soprattutto hanno anche aperto associazioni nei loro paesi attraverso le quali fanno sensibilizzazione presso i propri giovani connazionali ai quali spiegano andate dove volete ma non passate dalla Libia però il problema qual è che ormai a Tripoli c'è un popolo bloccato da anni che non riesce più ad andare né avanti né indietro e stiamo parlando almeno di 500.000 persone che sono in Libia ormai da anni e sono di fatto in trappola quindi non è tanto chi oggi si muove dai propri paesi ma è chi in questo momento in Libia da anni che senza via di fuga evidentemente prima o poi tenterà e ritenterà di attraversare ma ha mosso dalla disperazione almeno una piccola parte di queste persone Eine fa un'altra domanda la legge del mare non dice che quando sali a bordo di una nave sei su suolo della nazione di cui batte la bandiera sì però quando si imbarcano su questi gommoni sgonfi dubito che questi gommoni sgonfi abbiano bandiera quindi per questo sottolineo lì il crimine viene compiuto all'inizio perché caricare delle persone su un natante che non arriverà mai a destinazione ma che affonderà prima significa sostanzialmente mandare qualcuno a morire perché poi qui dall'Europa ci vogliono far credere che questi stai erano in mare è successo qualcosa è andato qualcosa è andato storto e quindi si è reso necessario il salvataggio no 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 il salvataggio è necessario sempre perché i gommoni sgonfi da soli non raggiungono le coste italiane pertanto caricare delle persone sui gommoni sgonfi è un crimine è un tentato omicidio ok e quindi poi mi dicessero pure che le vanno a salvare sì li vanno a salvare evidentemente altrimenti queste persone morirebbero però indurre una persona a rischiare la vita per poi salvarglia e dire glielo ho salvata non lo so effettivamente se sia un'azione così morale questo è il punto poi per di cronaca leggo anche il commento perché non leggo solo i complimenti ma sono quelli i costi quindi 60.000 euro per due conferenze e un articolo non siete del settore ma tra consulenze finanziarie a multinazionali o per accordi bancari sono tranquillamente quelle le cifre ne sono a conoscenza mi fa strano che sia un politico e un politico che ha a che fare con un'NG e che non sia una multinazionale è un'ONG che paga 60.000 euro a un politico che poi diciamo che è un conflitto di interessi consentitemi per me però giustamente Chris ci mette a conoscenza di questa cosa io la riporto a beneficio di tutti vediamo un pochettino chiedo scusa ci sono tantissimi messaggi se mi sono perso la vostra domanda rifatemela e sulla domanda delle navi intendeva l'ONG perché sai che c'è questa polemica che poi salgono sull'ONG e poi litigano Italia con Francia con tutta Europa viene fuori l'ipocrisia che si odiano tutti con tutti del fatto che una volta sulle ONG giustamente Eine dice ma le ONG hanno bandiera e allora fa fede o non fa fede quella è lì cavilli in cui si guarda è un dibattito che non mi appassiona perché secondo me le persone non dovrebbero transitare in quel modo attraverso il mare quindi le questioni andrebbe risolta a monte per cui mettersi ecco io questa la chiamo la pornografia delle conseguenze mettersi lì a discutere ma quello salvato lo salviamo lo lasciamo lì lo prendiamo lo mogliamo io la chiamo pornografia delle conseguenze io al contrario sono interessato alle cause e quindi spero che ci sia un modo presto per cambiare completamente il paradigma bella domanda è probabile che durante i viaggi diplomatici italiani in Libia con vari regali in supporto tutti ci ricordiamo anche le motovedette regalate alla Libia che poi la Libia ha usato contro i pescherecci italiani questo è un'altra vergogna cioè ci siano con tutti questi viaggi è possibile che ci siano con questi regali anche i soldi per tenerli lì quindi ma effettivamente il disinteresse nazionale per quello che accade lì se non è corruzione questa no dunque a parte come dicevo c'è questa interrogazione parlamentare mi piacerebbe che venga riproposta perché almeno così sentiamo dalla voce del governo di Tripoli cosa da dirci in questione ma il punto secondo me è questo che noi abbiamo imparato a pensare che noi paghiamo qualcuno per tenersi i migranti ma secondo me questa storia non regge però soprattutto quando si parla di Libia perché in realtà i migranti piacciono un po' a chiunque un po' a tutti perché migranti alla fine io da quattro anni li chiamo migranti schiavi contrattino perché è lo stesso concetto essere migranti significa essere schiavo significa arrivare in un paese senza documenti e pertanto essere ridotto in schiavitù o in semischiavitù quindi i libici non fanno nessuno sforzo a tenersi i migranti al contrario dal momento che sono diminuiti gli ingressi in Libia negli ultimi anni le milizie hanno la necessità di mantenere costante la popolazione di neri africani in Tripolitania altrimenti si fermerebbe l'economia della Tripolitania se non ci fossero questi schiavi se non ci fosse questa forza lavoro quindi meno ne entrano meno ne escono tanti ne entrano tanti ne escono di conseguenza fanno un favore a loro stessi le milizie quando vanno a intercettare questi ragazzi in mare e li riportano a terra peraltro un ragazzo quando si imbarca paga 1000 euro quando viene preso riportato a terra sotto tortura gli estorcono fino a 4000 euro quindi un migrante riportato in Libia vale quattro volte di più di quello che parte dalla Libia per venire in Italia pertanto non credo che quei soldi siano legati alla migrazione lo dimostra questo documento ma di fatto era una teoria che già io espongo nel film e quando è uscito il film ancora quando è stato chiuso il film ancora non ero in possesso di questo documento perché in realtà già tutto lasciava pensare che non ci fosse corrispondenza tra i soldi mandati dai governi italiani e il fatto che i libici si debbano preoccupare di fermarli per quanto riguarda le motovedette sì è vero però è vera anche un'altra voce che circola in Libia e cioè che quelle motovedette in realtà non servano esattamente ed esclusivamente soltanto per fermare i migranti ma quella come dire quelle motovedette quegli equipaggiamenti servono anche per qualcos'altro perlomeno così ci hanno raccontato in Libia questo qualcos'altro è sempre legato al saccheggio del petrolio quindi io veramente do questo consiglio di lasciar perdere la migrazione perlomeno quella dall'Africa quando la si vuole considerare come un fatto a sé è un sotto insieme di un insieme più grande l'insieme più grande si chiama saccheggio del petrolio libico quando le legittime autorità della Libia riprenderanno il possesso completo sulle proprie risorse anche la questione migratoria subirà una un'evoluzione in meglio perlomeno sarà possibile svantellare le milizie la tratta di esseri umani quindi non si verificheranno gli episodi a cui abbiamo assistito in questi ultimi anni di cui noi abbiamo visto soltanto la punta dell'iceberg cioè i ragazzi a negare in mare fra l'altro un paese come la Libia con tutto il petrolio che ha è improbabile che gli esportatori di democrazia non si siano ancora attivati quindi evidentemente sono lì e fanno il gioco contrario all'Unione Europea questo come al solito per far capire chi è il vero nemico dell'economia italiana e quindi anche qui andare a vedere dove sono gli inglesi e gli americani è impensabile che non siano lì saranno lì contro di noi tanto per cambiare domanda di Riccardo rientra probabilmente nel grande progetto di diminuire i costi del lavoro per i nuovi imprenditori? ma questo è qualcosa che si può dire a posteriori di fatto cioè sotto gli occhi di tutti ormai lo sappiamo benissimo peraltro vi racconto questa storia che ho inserito nel libro perché come dicevo la mia indagine normalmente si limita alla Libia però questo episodio l'ho raccontato perché l'ho avuto sotto i miei occhi cioè in Germania c'è una tassa sulla religione Stoier-Kirchen al 8% quindi non all'8 per mille all'8% cioè i contribuenti tedeschi pagano l'8% delle loro tasse per le chiese che può essere la chiesa protestante cattolica può essere il buddismo l'ebraismo l'islam ovviamente questo cosa fa sì fa sì che la chiesa protestante tedesca sia la chiesa in Europa che riceve più fondi di Stato nel 2016 io vivevo a Berlino quando le ONG hanno cominciato a portare le loro navi in mare ed erano tutte soprattutto le prime erano ONG tedesche la campagna promozionale quando si trattò nel 2016 di lanciare questa idea di mettere in mare delle navi per salvare i migranti che venivano dalla Libia fu interamente finanziata dalla chiesa protestante tedesca la quale sostiene di non contribuire direttamente alle spese delle ONG tedesche ma sicuramente ha ammesso di coprire i costi della della promozione dell'attività promozionale delle ONG quindi le ONG tedesche hanno contribuito non soltanto diciamo così a far rischiare la vita a chi poi attraversa sui comuni sgonfi ma a creare questa illusione per cui dall'Africa in qualche modo se arrivi in Libia poi puoi raggiungere l'Europa quando questi ragazzi sono stati poi presi salvati portati in Italia e verosimilmente abbandonati nel Sud Italia si è prodotto che appunto i salari nell'agricoltura negli ultimi dieci anni nel Sud Italia siano praticamente crollati dopodiché che cosa succede arriva una multinazionale agroalimentare del Nord Europa che viene nei mercati del Sud Italia a imporre i prezzi per cui chi si trova ad avere delle coltivazioni giustamente vengono anche definiti caporali però noi dobbiamo sapere lo sappiamo benissimo che così come pagano magari un euro due euro appunto questi schiavi africani allo stesso tempo gli viene offerto un prezzo da fame da parte di queste multinazionali agroalimentari e quindi ecco qui abbiamo la chiusura del cerchio perché poi cosa succede e questo te lo posso dire perché ho vissuto a Berlino vai in un supermercato a Berlino i pomodori li paghi meno che nel Sud Italia allora se c'è tutto questo cerchio che arriva fino a chiudersi io penso che non può essere una sequenza casuale di coincidenze per cui effettivamente io penso che qualcuno l'ha pensata giusta da un certo punto di vista è incredibile come lo schifo umano possa raggrupparsi tutto in un'unica attività Chiara Reggiani fa una domanda che magari fa comodo a tanti perché lo abbiamo accennato all'inizio ma lo rispichiamo bene dice quindi non ho capito se partono valgono 1000 euro se tornano 4000 l'abbiamo spiegato all'inizio adesso che i 1000 di quando partono gli storcono subito dammi 1000 euro e ti faccio imbarcare quando li riprendono li riportano indietro i 4000 li chiedono di riscatto alla famiglia dopo numerose torture mandano i video ai familiari e dicono lo rivuovi vivo mandaci 4000 euro o dollari cosa si parla a volte i euro a volte i dollari anche loro scelgono in base alle quotazioni ecco quindi è questo cioè esatto queste sono le milizie esatto pensate anche a quanto debbano faticare in quelle condizioni per dargli i primi 1000 è una famiglia che si vede chieste 4000 con il video del proprio caro torturato in cambio di rivederlo vivo questo se esiste un karma divino voglio sperare che qualcuno provveda prima o poi se non in questa vita nell'altra esattamente tra l'altro ti posso raccontare molto brevemente che mi è capitato negli anni scorsi di decidere di voler raccogliere 4000 euro perché ero stato contattato da una famiglia che aveva un proprio caro sotto tortura e non avevano i soldi per la mandare per pagare il riscatto e quindi ho organizzato una colletta online racimolamo questi 4000 euro però non glielo abbiamo mandati agli aguzzini libici glielo abbiamo mandati alla famiglia che stava a Khartoum perché 4000 euro vanno consegnati a mano alle mafie locali le quali poi chiamano i libici e dicono ok hanno pagato potete liberarlo e questa è la miglior prova che dimostra come le milizie abbiano negli ultimi anni messo in piedi una rete capillare con le mafie locali nei vari paesi africani con le quali si spartiscono verosimilmente il ricavato di queste estorsioni e questo dimostra perché è tutto interesse anche delle mafie di questi paesi adescare i loro propri connazionali e mandarli verso la Tripolitania perché quando arrivano lì la Tripolitania ormai è una zona franca di libero sfruttamento del nero africano lì possono produrre soldi e possono essere ridotti a tortura a scopo di estorsione beh direi che ne abbiamo dato abbastanza abbiamo fatto anche una puntata dove spiega anche i rapporti tra la magia nera e la mafia nigeriana che purtroppo è sempre più presente in Italia città come Torino e Bologna ne sanno anche qualcosa nel silenzio più totale anche qui dei media che evidentemente hanno altro a cui pensare a cui badare magari detto ciò Michelangelo tienici aggiornati ancora complimenti e solidarietà per il tuo lavoro e ovviamente siamo a tua disposizione se accade qualcosa se qualcuno vuole aggiungere un qualcosa quanto da te dichiarato noi siamo qui e organizziamo un diritto di replica però riservandoci di fare per ulteriori domande quindi non è un diritto di replica sterile se volete vedete su questo canale e anche in diretta così siete anche sicuri del fatto che non tagliamo nulla proprio come avevo fatto con te in diretta farò un'intervista anche a loro detto ciò grazie anche a tutti i fedelissimi e i nuovi arrivati nella chat che hanno guardato questa nostra puntata assieme anche quest'oggi per ora è tutto promo sigla appuntamento alla prossima grazie Michelangelo grazie a voi alla prossima come scrisse George Orwell chi controlla il passato controlla il futuro chi controlla il presente controlla il passato facciamo finta che è il canale YouTube ideato e diretto da Gianluca Lamberti sono quattro i nuovi video ogni settimana il lunedì il mercoledì il venerdì e la domenica alle 21.30 in diretta sostienici abbonandoti o facendo una donazione per far crescere il progetto e sostenere la libera informazione facciamo finta che è presente su ogni social a te basterà seguirci a te Grazie a tutti.